Alla fine, dopo cinque ore di trattative, ha scelto di consegnarsi alle forze dell'ordine senza opporre resistenza il 28enne di Tocco da Casauria che questa mattina, al culmine di un litigio, ha sequestrato in casa il padre minacciandolo con un coltello. Decisivo, come spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, Marco Riscaldati, l'intervento del mediatore delle forze speciali. Non c'è stato nessun blitz, nel senso che il nostro negoziatore, un maresciallo del comando provinciale ha svolto il suo lavoro egregiamente ed è riuscito al termine di un dialogo che si è protratto per molte ore a convincere il ragazzo a desistere, pertanto siamo riusciti a entrare in casa con molta calma e con molta tranquillità e a convincere il ragazzo a uscire senza alcun tipo di soluzione di forza. È una situazione molto in divenire, per cui cercheremo di fare chiarezza anche sui prodromi e sulle premesse di questa vicenda. Ha parlato anche con la sorella e la giovane prima di desistere? Ha avuto alcuni dei contatti, sì, certo. Luca Settembrini, agricoltore non è nuovo ad episodi critici in una famiglia che vive una situazione difficile di cui ne ha conoscenza. Anche il comune Settembrini ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità toccolana. Sì, si è temuto il peggio, devo dirvi la verità, io ho sentito un po' troppe chiacchiere altisonanti sulla vicenda. Il ragazzo ha subito, ha avuto un disagio evidentemente, ha manifestato un disagio, probabilmente ha avuto una discussione magari anche accesa in casa e dopodiché ha perso il controllo. Però grazie all'intervento delle forze dell'ordine, dei mediatori delle forze dell'ordine e soprattutto dei familiari, al dialogo con i familiari, poi alla fine è tornato lucido tanto da rendersi conto che forse era il caso di ripristinare uno stato di normalità. Ora speriamo per lui e per tutti quanti che questa vicenda poi faccia un decorso il migliore possibile. Dopo essersi consegnato il ragazzo è stato medicato e poi condotto nella caserma dei carabinieri a disposizione del magistrato. Il padre sotto shock è stato portato in ospedale per riaccertamenti di rito, ha riportato soltanto alcune contusioni.